Uno dei plugin per Wordpress più utilizzati a livello mondiale è sicuramente WooCommerce. Basti pensare che su di esso sono basati circa il 28% di tutti i negozi online. Esso consente di allestire in modo rapido e intuitivo siti di e-commerce sfruttando l'architettura di un CMS estremamente popolare e apprezzato quale è Wordpress. WooCommerce è nato per venire incontro alle esigenze di venditori online professionisti del web, grazie all'esperienza d'uso chiara e immediata lato utente. Il plugin consente di ridurre i tassi di abbandono dei carrelli virtuali sui siti di e-commerce. WooCommerce aiuta a personalizzare ogni aspetto della vendita online mantenendo un controllo diretto e costante su ciascuna transazione, sui rapporti tra clienti ed esercenti, sulle ottimizzazioni SEO per acquisire massima visibilità sui motori di ricerca. C'è un però. Ciò che spesso limita ampie fette di utenza ad aprire il proprio di sito di e-commerce è la complessità tecnica della gestione di una piattaforma WordPress più WooCommerce. Attivando un servizio di hosting online, l'installazione dei due pacchetti software è generalmente molto semplice e si conclude in pochi minuti. Quello che però causa non pochi mal di testa è il periodico aggiornamento di WordPress e dei componenti aggiuntivi via via installati. Da oggi Aruba propone il nuovo servizio hosting WooCommerce gestito che permette di richiedere la predisposizione di una piattaforma dedicata esclusivamente a WordPress e WooCommerce. Si otterrà una soluzione ricca di servizi e funzionalità specifiche per lo sviluppo del proprio progetto di e-commerce. Grazie all'approccio SaaS Software as a Service, il cliente Aruba potrà godere in automatico di servizi e funzionalità quali, aggiornamenti automatici fondamentali per la sicurezza e per risparmiare tempo nella gestione del negozio, backup automatici ogni 4 ore utili per ridurre il rischio di perdita di dati e transazioni in caso di eventuali malfunzionamenti del sito, ambiente di prova. Staging, per la manutenzione del negozio online, per rendere sicure le operazioni di modifica e pubblicazione, risparmiare tempo, evitare errori e agire in sicurezza. Il servizio di hosting gestito WooCommerce include anche la registrazione e la gestione del nome a dominio, del certificato digitale 505, il tema Storefront preinstallato e il supporto tecnico. Per maggiori informazioni, è possibile fare riferimento alla pagina dedicata al servizio di hosting WooCommerce gestito. Grazie a tutti.